Giuseppe Ranalli, dottore commercialista, nato a Sulmona e divi residente, candidato a consigliere comunale nella lista del Partito Democratico con sindaco Michele Lombardo. Ho deciso di candidarmi a consigliere comunale per dare il mio diretto contributo da cittadino che lavora e vive a Sulmona per cercare di risolvere alcuni problemi che assillano la nostra città. Il ruolo di consigliere comunale è un ruolo difficile, occorre passione, impegno, studio ed esperienza. Le scelte amministrative costituiscono il quadro di riferimento normativo e regolamentare per lo sviluppo socio-economico di un territorio. In particolare cercherò di interessarmi delle questioni economiche e patrimoniali di cui ho avuto modo di conoscere la grande e rilevante importanza ai fini dell'amministrazione comunale. Mi adopererò per affrontare i problemi legati all'occupazione giovanile, per integrare le forze sociali ed economiche sul territorio, per sostenere i corsi universitari avviati e quelli da avviare, affinché vengano tutelate e sostenute le associazioni culturali e sportive. Mi adopererò affinché vengano individuate nuove aree attrezzate per i bambini, per risolvere il disagio che centinaia di famiglie hanno di consentire ai loro figli minori ore di svago e di gioia. Cercherò altresì di affrontare le problematiche sociali rivolte alle persone svantaggiate e a porre in essere tutte le iniziative amministrative utili al loro sostegno. Inoltre cercherò, come ho fatto nella mia più breve esperienza di assessore, di rapportarmi costantemente con i concittadini, cercando di ascoltare quotidianamente i loro consigli. Altro impegno che voglio assumere pubblicamente è che mi batterò affinché qualsiasi iniziativa amministrativa venga condotta nella massima trasparenza e nel rispetto di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Chiedo a tutti i solmonesi di sostenermi con il loro voto, segnando con una croce il sindaco Michele Lombardo e scrivendo il mio nome, Giuseppe Granalli, nella lista del Partito Democratico. Il mio impegno è quello di onorare le istituzioni, servirle con un costante d'assiduo lavoro quotidiano. Giuseppe Ranalli, dottore commercialista, nato a Sulmona e divi residente, candidato a consigliere comunale nella lista del Partito Democratico con sindaco Michele Lombardo.